Il ritorno in classe dei ragazzi delle scuole medie non ha creato grandi problemi, in particolare per quanto riguarda gli assembramenti. Era questa infatti la principale preoccupazione. Molti sono invece timori a riguardo per le scuole superiori che dovrebbero rientrare lunedì. Il primo ad avere i dubbi è il sindaco che pare sia orientato a far slittare la data di ripresa per le elezioni in presenza. Onestamente ad oggi, se devo essere sincero, nutro qualche perplessità rispetto al riavvio in presenza delle elezioni per gli istituti superiori. Mi riservo in questi prossimi giorni di valutare l'andamento dei casi in città, l'andamento anche della ripresa delle elezioni in presenza fino alla scuola media. Io spesso mi sono trovato a confrontarmi con i genitori in queste ultime settimane. E ho detto, io so quello che accade nella mia città e soprattutto, poiché ne sono il sindaco, sono pronto ad assumermi le responsabilità del caso. È evidente che con l'arrivo degli studenti delle scuole superiori in città, questo controllo non ci sarebbe più. E quindi, onestamente, vorrei valutarlo attentamente e oggettivamente sto pensando anche ad un rinvio di qualche giorno di questa ripartenza.